Tutto il magazzino sta bruciando, ma sai quante pompe devono venire, devono venire anche quelli di Lodia Ma adesso io li avviso ancora, io li chiamo ancora Steffi Eh no glielo dico, guarda che ha preso fuoco tutto il magazzino Guarda 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 che comunque... Da quando siamo arrivati noi Eh lì è tutto il magazzino, a parte lì è tutto il magazzino Ormai, guarda 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 là, guarda là Quello lei ha già scelto giù, guarda che ha già scelto giù un pezzo Ho chiamato anche i pompieri ma hanno detto che sanno già Ho chiamato i fanno sappiamo, ci hanno già avvisato però non arrivano Eh adesso quando ho finito di bruciare Ma anche se arrivano non è che ci fanno bocca Sì no Al massimo lo contengono lì dentro E la crisi non possono davvero Ma quello che cazzo fai? Ti fai una bomba, forse si spegne